E' stata la Festa della Repubblica, l'occasione per consegnare un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale di Penne alle associazioni di volontariato impegnate nella gestione della campagna vaccinale presso il Palatenda di Contrada Campetto. Tra i premiati figurano la Croce Rossa, la Protezione Civile Gruppo Comunale Gioni Damiani, il Gruppo di Protezione Civile degli Alpini e l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. La cerimonia tenutasi presso il Chiostro di San Domenico è stata l'occasione per riflettere sulle radici democratiche del Paese. L'impegno dell'amministrazione comunale è stato proprio quello di dare un messaggio chiaro, responsabilità e soprattutto spinta verso una ripartenza forte e coesa della nostra comunità. La Costituzione deve essere quel capisaldo importante per la nostra comunità e per la nostra ripartenza. Non a caso oggi abbiamo scelto di consegnare alle nostre associazioni cittadine un riconoscimento perché vogliamo esaltare quel principio di sussidiarietà contenuto nell'articolo 118 che appunto riguarda un aspetto importante del volontariato. Ecco perché è importante continuare nel solco della sussidiarietà, rapporto tra enti e associazioni. E io sono contento di aver contribuito durante questo mandato amministrativo proprio per esaltare il ruolo delle associazioni all'interno della nostra città. Una cerimonia che ha ripercorso i principi più importanti sanciti dalla Carta Costituzionale, oltre a voler segnare l'inizio di una ripartenza grazie ad una campagna vaccinale nell'area vestina che procede in modo rapido. Siamo arrivati, credo, ho visto così i numeri, siamo arrivati a circa 20.000 inoculazioni e quindi vuol dire che abbiamo messo in sicurezza i cittadini di tutta l'area vestina e io colgo l'occasione per ringraziare tutto il team vaccinale che si sta impegnando. In effetti anche adesso non siamo qui ma il nostro team si è regato a Brittoli perché oggi Brittoli diventa il paese free, cioè nel senso tutti vaccinati e quindi questo è un primo piccolo obiettivo importante. Poi faremo anche gli altri paesi. I volontari hanno rivestito un ruolo importantissimo perché tutti i giorni impegnati non hanno neanche, diciamo, non si sono mai lamentati, questa è una cosa molto importante. Ringrazio veramente tutti i collaboratori, tutti i volontari, tutti i sanitari, i sanitari che stanno collaborando per questa vaccinazione.